Buonasera ai nostri telespettatori, questa sera parliamo del rinnovo del Consiglio regionale e della vittoria del centrodestra che ha portato alla guida della regione l'onorevole Iole Santelli, parliamo questa sera di una coalizione Fratelli d'Italia e abbiamo ospite nei nostri studi il neo consigliere regionale eletto l'onorevole Filippo Pietropaolo, onorevole una vittoria forte, un risultato più che soddisfacente per Fratelli d'Italia, lei è il nuovo consigliere regionale. Intanto grazie per l'invito, il partito ha avuto un buon risultato sia a livello circoscrizionale, ricordo che il collegio è composto da la provincia di Vibbo, la provincia di Catanzaro e la provincia di Crotone, quindi un collegio molto vasto, ma ha anche un buonissimo risultato a livello regionale perché Fratelli d'Italia ha superato l'11% e quindi ha quasi confermato i risultati delle europee di qualche mese fa, che era un risultato veramente, è stato risultato del 12% che è stato giudicato dalla stessa Meloni, la presidenza del partito, come il miglior risultato d'Italia. Quindi il fatto di essere riusciti pressa poco a confermare quel risultato per noi è ovviamente un motivo di grande orgoglio e di grande felicità, insomma. Lei è un commercialista e un amministratore di società che si occupano sia di innovazioni tecnologiche ma soprattutto di fondi europei. La Calabria è una regione come indicatori ultima, un PIL basso o disoccupazione giovanile. Secondo lei i fondi europei possono essere un punto di forza per rialzare il PIL? Beh, assolutamente sì. Noi dobbiamo partire da un presupposto. Le regioni e quindi anche la Calabria non ricevono più gli stanziamenti, i fondi dallo Stato come avveniva molti anni fa per le attività di carattere di investimento piuttosto che di sostegno all'economia, ma hanno soltanto a disposizione i fondi comunitari. I fondi comunitari non sono fondi regalati, sono una parte dell'IVA dello Stato italiano che viene versato all'Unione Europea e che l'Unione Europea riprogramma insieme agli Stati membri in funzione degli obiettivi da raggiungere, dei territori. Il nostro territorio, che è un territorio obiettivo convergenza cosiddetto, è un territorio che ha un reddito molto basso, un PIL pro capita molto basso ed è quindi annoverato tra le regioni più povere e per questo motivo i fondi comunitari sono anche molto sostenuti, cioè ce ne sono parecchi. Qual è il problema? Che i fondi comunitari devono essere programmati per bene. Programmati bene vuol dire che, quello che io penso, è che negli ultimi sei senni, perché sono programmati ogni sei anni, questi programmi non sono stati fatti in maniera da poter lasciare sul territorio un risultato. Sono stati fatti dei programmi bellissimi dal punto di vista estetico del documento, dei programmi che contenevano tante cose da fare, un'analisi molto dettagliata della situazione calabrese, disastrosa da molti punti di vista, tanti obiettivi da raggiungere, molti interventi, molti sottointerventi con una complicazione incredibile. Quindi sono risultati sostanzialmente inattuabili questi programmi. Quindi possiamo dire che c'è una difficoltà burocratica di snellimento e di accesso alle informazioni per poter elaborare? C'è prima di tutto un'esigenza di programmare per bene. L'attività principale della regione è la programmazione, non la gestione dei fondi e delle relative fonti di finanziamento. La programmazione è la cosa principale, perché se si programma bene è facile anche poi eseguire per bene e raggiungere gli obiettivi prefissati. Se si fa un programma molto complesso, che si prefigge di raggiungere obiettivi difficilmente raggiungibili, soprattutto con tanti interventi, con migliaia di piccoli interventi, è difficile realizzarli e quando, anche qualora si riuscisse a realizzare, rilascerebbero ben poco sul territorio. Quello che invece bisogna fare, secondo me, è programmare oggi, visto che nel 2020 si farà la programmazione per i fondi strutturali 21-27, quindi per il successivo sesennio, quindi è un anno molto importante questo, bisogna programmare dedicandosi e concentrandosi su obiettivi, pochi interventi, pochi obiettivi e concentrare le risorse sugli interventi più importanti, in maniera che rimanga sul territorio qualcosa e che non si tenda a fare un intervento a pioggia, che sicuramente sarà un intervento che avvantaggia la politica più clientelare, che è quella che noi non vogliamo fare, a noi ci interessa programmare e fare gli interventi per lasciare sul territorio qualcosa di concreto. Onorevole, uno strumento molto attuato negli ultimi anni, garanzia giovani, finanziamenti ministeriali, Regione Calabria, difficoltà ad accedere, però molti giovani, proprio statisticamente, finito l'anno, vengono licenziati. Le aziende dicono, io ho una pressione fiscale, non riesco a poter assumere questo ragazzo. Quindi le aziende, come possono uscire da questo problema che è sostanziale? Quello che bisogna fare con i fondi comunitari, secondo me, oggi è proprio sostenere le piccole e medie imprese. L'occupazione stabile non può arrivare se non dalle piccole e medie imprese. Io faccio anche l'imprenditore, ho un'attività per cui do lavoro a parecchi giovani e quindi vivo questa esperienza tutti i giorni. Non è possibile che i fondi comunitari non sostengano la volontà e la voglia di creare imprese a dei giovani e sostengano anche le imprese che già esistano nella loro naturale volontà di crescita, perché è normale che una piccola impresa piano piano voglia crescere in qualità e anche in dimensione. Queste piccole imprese devono essere sostenute e per sostenere una piccola impresa non bisogna regalare i soldi, bisogna fare in modo che gli imprenditori abbiano la certezza di poter avere in tutto il periodo del sesennio delle misure di sostegno sempre attive, a sostegno della creazione di occupazione stabile, a sostegno quindi con delle agevolazioni serie sulla creazione di occupazione stabile, a sostegno della propria attività. Quindi per esempio fare in modo che le aree industriali siano attrezzate, siano già pronte e quando una piccola impresa si vuole instaurare in un territorio, in un'area PIP di un comune come quello dove siamo oggi, piuttosto che un comune più grande e trovasse un'area industriale già pronta con la luce, il sistema fognario, le strade, la rete internet, urbanizzata, urbanizzata seriamente e la videosorveglianza, queste cose già tolgono molti problemi a chi si vuole mettere in piedi, a chi vuole mettere in piedi una nuova iniziativa, quindi già sarebbe tanto, però purtroppo già questo non c'è da noi, c'è le nostre aree industriali, non sono attrezzate. Noi abbiamo un esempio oggi, il Corap della regione che è un fallimento, l'unica struttura regionale che gestisce le aree industriali è fallimentare, è chiusa, è successo che la regione ha unito cinque consorsi di sviluppo industriale delle cinque province e ha fatto in modo che i consorsi che avevano dei problemi hanno infettato, per così dire, anche quelli che andavano bene e alla fine è chiuso, l'unico consorzio ha chiuso. Quindi oggi siamo in una situazione veramente di disastro. Onorevole, torniamo proprio al tema attuale. Nella prossima settimana la Corte d'Appello dovrebbe fare la proclamazione quindi del neopresidente Iole Santelli e dei consiglieri regionali. Subito dopo si lavorerà per la formazione della giunta regionale che dovrebbe, come abbiamo detto, aggredire questa problematica. Qual è il ruolo di Fratelli d'Italia e soprattutto le indicazioni che Fratelli d'Italia vuole dare per la svolta a questo nuovo governo regionale che si sta approssimando ad entrare? Insomma, Fratelli d'Italia fa parte di una coalizione e quindi è ovvio che non può, a mio avviso, fare delle scelte autonomamente. Può contribuire a creare la migliore squadra possibile. Questo sì. Ovviamente le scelte delle deleghe, dei compiti che vengono assegnati sono scelte che spettano al Presidente eletto con il consenso e l'avallo, il contributo dei partiti che hanno contribuito all'elezione. Quindi in particolare Fratelli d'Italia è Lega, essendo il Presidente di Forza Italia. Quindi Fratelli d'Italia ovviamente darà il massimo del contributo possibile, che la squadra che viene formata e che verrà formata sia la migliore squadra possibile, sia in termini di risposta alla rappresentanza in termini di consiglio regionale, di forza presente nel consiglio regionale, ma anche in termini di competenze che vengono espresse e sono quelle che devono essere poi, secondo me, presenti in giunta per avvalorare l'attività da fare insieme al Presidente. Perché il Presidente è una persona molto seria, io conosco, ha sicuramente la voglia di preparare e di organizzare una squadra per fare un'attività di lavoro in equippe. Onorevole, mi ha colpito una cosa di quello che l'avevo detto precedentemente. Lei ritiene che la mancanza di infrastrutture è un gap negativo per l'investimento delle aziende, soprattutto di quelle del nord, che non vedono competitivo. Faccio un esempio. Le merci arrivano al porto di Gioia Tauro, però poi lì non c'è la linea ferroviaria proprio per la diversificazione. Certamente le infrastrutture sono un problema, nel senso che noi dobbiamo puntare a un miglioramento complessivo delle infrastrutture. Però bisogna dire, credo, che il problema per cui le imprese non vogliono localizzarsi in Calabria dipenda molto anche da un problema di legalità. Non possiamo non considerare che la Calabria ha questo problema. È un biglietto da visita che purtroppo dobbiamo concentrarci per farlo cambiare. Dobbiamo concentrarci molto nel migliorare l'immagine della Calabria e dare l'immagine della Calabria a quella vera, che è l'immagine della Calabria che lavora, della Calabria onesta, che noi tutti conosciamo. E chi invece sta fuori sentendo le notizie che arrivano dalla Calabria, che sono sempre quelle negative, purtroppo ha un'immagine negativa. Un imprenditore del Nord difficilmente può pensare, se non conosce bene il nostro territorio, di localizzarsi. Poi è ovvio che se avesse anche le infrastrutture migliori, e lei parla del porto di Giulia Tauro, il porto di Giulia Tauro è un porto di transhipment, cioè un porto non di sbarco delle merci, è un porto che è fatto per trasportare le merci dalle navi più grandi alle navi più piccole. Quindi è un porto con una caratteristica ben particolare. Però questo non consente, visto l'infrastruttura che c'è nel porto, di far diventare il porto una struttura molto diversa. Ma so che ci si sta lavorando anche a questo, con le aziende che lavorano già lì. Certamente, secondo me, comunque noi quello che dobbiamo fare è cercare di migliorare non solo la qualità, ma migliorare la competitività delle nostre imprese. Quindi sì, fare in modo di avere delle situazioni che siano facilmente accettabili e migliori per poter attrarre degli investimenti anche dal nord o da altri paesi, ma la cosa più importante è fare in modo che noi stessi calabresi creiamo imprese per i nostri giovani e creiamo occupazione stabile noi stessi, perché ci sono le potenzialità. Le eccellenze calabresi, conosciuti in tutto il mondo. Le eccellenze agroalimentari, le eccellenze artigianali, le eccellenze, io parlo, siccome lavoro nell'ambito dell'innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'innovazione tecnologica, la Calabria può diventare, e questo mi farebbe per dire la verità molto piacere, se diventasse, se si creasse in Calabria un polo di eccellenza nell'innovazione tecnologica, avendo un'università come quello di Cosenza, che sforna moltissimi ingegneri elettronici e informatici, l'università di Catanzaro che sforna ingegneri biomedici e informatici, quindi ci sono le potenzialità da parte anche dei nostri ragazzi che hanno tutta la voglia di creare impresa, ci vorrebbe lo sforzo da parte, secondo me, della regione di creare un polo di eccellenza con delle connessioni importanti e stabili con le infrastrutture del nord e del nord Europa, anche con le università di altri paesi europei, per fare in modo che in Calabria si concentrino alcune tipologie di ricerca, per esempio io utilizzerei molti dei fondi strutturali per la ricerca, per puntare sulla ricerca nell'innovazione, significa far restare i nostri ragazzi in Calabria, farli crescere in esperienza anche in Calabria. Se poi vogliono andare fuori per fare un'esperienza va benissimo, purché poi abbiano la possibilità di rientrare e lavorare e portare alla loro competenza e farla crescere in Calabria. Su queste cose dobbiamo puntare, secondo me, soprattutto con l'utilizzo sapiente dei fondi strutturali. Tornando alla campagna elettorale, mi ha colpito una frase che ha detto l'onorevole Santelli, questo entusiasmo io lo percepisco, vedo molti giovani che si avvicinano, mi chiedono un cambiamento. Una cosa è vera, in una campagna elettorale in cui la popolazione calabrese ha detto ci vogliamo quasi liberare in questi cinque anni, lei ha parlato prima, un uomo solo al comando, non ci dovrà essere più. No, certo. Secondo lei, qual è la ricetta per far sì che questa Calabria esca fuori da questo isolamento e questi giovani, come diceva, non vanno più in Gran Bretagna, in Francia e lì diventano veramente delle eccellenze, grandi chirurghi, grandi ingegneri, grandi professionisti? Vabbè, guardi, che poi ci siano dei giovani che escano fuori, comunque vadano fuori a lavorare, mi sembra che stia anche nella natura delle cose, ognuno di noi deve essere libero di poter soddisfare le proprie voglie di crescita e di avere soddisfazioni professionali in qualsiasi punto del mondo, questo secondo me. È ovvio che nella maggioranza dei casi noi dobbiamo fare in modo che questo non avvenga, fermare questa emorragia che abbiamo di ragazzi che vanno fuori. Quello che dice la Santelli è che ha trovato un clima da parte dei giovani molto soddisfacente, interessante, io l'ho notato pure nel mio piccolo facendo la campagna elettorale nel nostro collegio, ho notato moltissimo interesse ed è la cosa forse che abbiamo più importante in Calabria, più che parliamo sempre delle coste, delle bellezze naturali, dell'archeologia, i beni culturali, il turismo religioso, sì, sono tutte cose fantastiche, ma il bene più prezioso che abbiamo sono le nostre persone, i nostri giovani, sono i calabresi, perché i calabresi sono in grado di creare sviluppo da soli, perché quando vanno fuori poi lo creano, lo dimostrano di essere in grado di fare delle cose, quindi noi dobbiamo essere in grado di rovesciare questo meccanismo che si è creato un po' perverso per cui la gente va fuori a realizzarsi, ma creare le condizioni per fare in modo che tutti siamo qui attratti e abbiamo la volontà di realizzarci qui, attraverso quello in cui noi o ciascuno di noi si vuole esprimere nelle tecniche climatiche in cui si vuole esprimere. Secondo l'onorevole, come si può far incontrare un termine che viene usato molto nei centri per l'impiego? La domanda e l'offerta di lavoro. Proprio oggi un ragazzo mi diceva ma io sono più di 15 anni che sono in grado di collocamento, non mi hanno mai chiamato, non mi hanno mai fatto fare un colloquio, cioè io sono iscritto lì e sono un numerino. Allora, i centri per l'impiego non sono il problema, per quanto il Movimento 5 Stelle identifica dei centri per l'impiego, io ho fatto dirigente del settore lavoro per sei anni in provincia di Catanzano, li conosco molto bene, i centri per l'impiego non sono il massimo dell'efficienza, ma non lo sono in tutta Italia, ma da noi ancora di più, ma non perché non sono bravi le persone che lavorano nei centri per l'impiego, perché sono veramente persone in gamba, manca l'offerta di lavoro e quando manca l'offerta di lavoro e il centro per l'impiego che cosa può offrire a un ragazzo che si iscrive se non ha un'azienda disponibile da assumere? Quindi oggi le aziende che fanno, se devono assumere, usano il passaparola, assumono il figlio dell'amico o la persona che conoscono o al massimo ricevono dei curriculum, li guardano, li analizzano, ma non si rivolgono al centro per l'impiego. Questo perché il centro per l'impiego ha poca sostanza, c'è poca possibilità di fare incroce di domanda offerta perché c'è poca offerta. Se ci fosse molta offerta, come succede al nord dove i centri per l'impiego funzionano molto meglio, questi centri farebbero anche le attività di selezioni e un imprenditore varrebbe sicuramente in un centro per l'impiego perché è più semplice e risparmia pure. Quindi io andrei al centro per l'impiego per dire trovatemi dieci ragazzi con questo profilo invece che cercarli io, sapendo che il centro per l'impiego lo fa nella maniera più trasparente possibile, perché lo fa secondo delle norme e mi cerca e mi trova e mi seleziona le persone adeguate. Solo che da noi manca l'offerta del lavoro, quindi noi dobbiamo puntare molto al discorso delle piccole e medie imprese per aumentare l'offerta di lavoro e questa è la cosa più importante, cioè sostenere le imprese che creano occupazione perché sono solo le piccole e medie imprese che creano occupazione. Secondo lei onorevole, quali sono le principali emergenze da aggredire nei cosiddetti cento giorni della prossima giunta? Se lei fosse assessore, diventa assessore, una priorità che lei da imprenditore lavorando quindi e portando avanti sul territorio, dice io andando in giunta porterei questa cosa. La fatidica domanda dei cento giorni però è una domanda che bisognerebbe rivolgere al Presidente, no scherzo. Ovviamente io che cosa mi piacerebbe fare nei cento giorni perché sono cose che secondo me si possono anche fare in cento giorni? Avviare delle serie politiche di incentivazione all'occupazione che oggi non esistono più. Lo Stato italiano centrale ha tolto, ha eliminato, questo l'ha fatto Renzi, le principali leggi di agevolazione che avevamo al Sud per l'assunzione dei giovani. Oggi se un imprenditore vuole assumere un ragazzo disoccupato non ha nessuna agevolazione. Nonostante si dica che al governo, il governo centrale non ce l'ha. I famosi tre anni al 50%. Sono stati tolti. Ecco lei si ricorda quella che era la legge automatica che si chiamava la 407 del 96 che funzionava perfettamente. L'ha tolta Renzi, forse non so se... L'ha tolta. Cioè quindi noi, gli imprenditori di giù, oggi nostri, non è vero che... Mi costa troppo tenere quella persona. Non è vero che avevamo il 50%, noi avevamo il 100%. 100%, sì. Di sgravi contributivi. Di sgravi o sugli oneri contributivi per tre anni bastava assumere un ragazzo con 24 mesi di disoccupazione, iscritto al centro per l'impiego da 24 mesi. Non esiste più. Oggi c'è una normativa che dice che se uno assume un ragazzo a tempo indeterminato ha un'agevolazione massima di 8 mila euro per 12 mesi. Ma gli 8 mila euro devono essere coperti da un fondo dell'Inps che è sempre senza soldi. Questo glielo dico per esperienza personale. Quindi ci hanno fregato, veramente fregato, le leggi più importanti sulle agevolazioni di incentivazione. Allora io questa la reintrodurrei subito a livello regionale. Quindi un nuovo piano per il lavoro da portare subito in Consiglio regionale. Ma immediatamente una normativa per utilizzare i fondi europei che ci sono ancora per consentire alle imprese di trasformare i ragazzi a tempo determinato a tempo indeterminato con un'agevolazione. I ragazzi con l'interinale assumeli a tempo indeterminato con un'agevolazione. I ragazzi part time a portarli full time con un'agevolazione. Questo lo farei immediatamente dando anche la possibilità, se è possibile studiando bene la cosa, di prolungare l'incentivo sempre sotto forma non di dazione di danaro ma di credito nei confronti dell'imprenditore per le assunzioni con l'esenzione delle contribuzioni degli oneri contributivi per almeno tre anni. Che è una cosa che si dice noi il centro-destra a livello nazionale. Lo dice da tanto tempo. Ma questa cosa è uscita fuori dai parametri, dai schemi di tutti, fino anche dalle organizzazioni datoriali, che è una cosa che mi meraviglia molto. Confindustria non dice nulla su questa cosa. Ma noi non abbiamo più questa legge. La 407 consentiva alle imprese del sud di avere il 100%, alle imprese del nord di avere il 50%. Oggi l'agevolazione che è detta per l'assunzione a tempo indeterminato fino a un massimo di 8 mila euro per 12 mesi è prevista sia per il nord che per il sud. Quindi non c'è più nessuna differenza. Quindi è come se lo Stato centrale avesse stabilito che il sud non ha problemi di occupazione. Quindi la prima cosa che farei sarebbe questa. Molte aziende, molte imprese, questo è un dato statistico, dice noi abbiamo difficoltà ad accedere alle informazioni. Paradossalmente arrivare alla Regione Calabria e dice io molte volte mi interfaccio con dei dipendenti che non riescono a capirmi quale sono le difficoltà proprio per poter assumere. Quindi c'è un problema di burocrazia che blocca quasi le aziende a poter accedere ai finanziamenti. Quindi bisogna snellire un apparato burocratico secondo lei? Assolutamente sì. Diciamo non snellire l'apparato burocratico che è complicato ma snellire le procedure e snellire le modalità di accesso ai fondi. Fare in modo che siano molto più semplici e automatiche nei limiti del possibile. Quando dicevo per un imprenditore la cosa principale qual è? E' avere la certezza che per sei anni, non per tre mesi, ha una linea di intervento. Cioè se fosse possibile a me piacerebbe che l'imprenditore come posso essere io, ma tanti colleghi che in Calabria lavorano quotidianamente, ma anche un nuovo imprenditore, cioè un ragazzo che vuole mettere in piedi un'impresa, sapere di avere una linea di intervento regionale che gli consente di avere un'agevolazione per le problematiche sulla sicurezza, per l'energia solare, per qualsiasi cosa, per le agevolazioni, per le assunzioni, ma sempre disponibili per sei anni e non dover aspettare l'uscita di un bando che esce il giorno X e finisce il giorno Y. E perché io devo fare la richiesta solo in questi due mesi e non la posso fare in sei anni? Cioè la devo fare quando ne ho un'esigenza, non quando mi dice la regione che la devo fare, cioè questa è una cosa che non ho mai capito. Onorevole, ci arriviamo alle conclusioni, le faccio un'ultima domanda, diciamo ormai si sta aspettando la proclamazione da parte della Corte d'Appello, poi la prossima settimana dovrebbero iniziare le cosiddette trattative per la formazione della Giunta. Una brutta parola, trattative? Trattative nel senso, ci si siede, ci inizia a discutere. Fratelli d'Italia, lei ha detto ha avuto un ottimo risultato in tutta la regione con i consiglieri regionali. Secondo lei un settore che potrebbe interessare Fratelli d'Italia, una delega diciamo o proprio un assessorario, quale potrebbe essere? Fratelli d'Italia vuole puntare a queste idee? No, questo io non lo posso dire. Io sono stato eletto in un partito, non sono stato eletto come Filippo Pietropaolo, sono stato eletto Filippo Pietropaolo all'interno di un partito perché faccio parte di un partito organizzato e ho assoluta, voglio mantenere ferma per quanto mi riguarda l'assoluta volontà di dare la massima disponibilità al partito di tutto quello che il partito ritiene di dover fare, sia per migliorare la gestione della regione, sia per migliorare anche il proprio consenso. Quindi io non posso rispondere a una domanda del genere perché è una domanda che bisogna fare a chi ha le retini del partito in Calabria e che è delegato a sedersi al tavolo con la Presidente. Non sono certamente anche io la persona che posso, né le posso dire secondo me, secondo me ecco io se dovessi dire l'ipotesi migliore sarebbe che Fratelli Italia si dedicasse a delle attività dove c'è la possibilità di realizzare qualcosa di concreto per dare un sostegno, un contributo fattivo al miglioramento della nostra regione. Questo non c'è dubbio. Però questo non vuol dire nulla. Ovviamente è il partito che decide, io sono all'interno di un partito e voglio assolutamente mantenere questa... Io la ringrazio per questa sua partecipazione, ci auguriamo di poterci rivedere dopo la formazione della nuova giunta regionale, auspicando che ci saranno degli assessori di Fratelli d'Italia e noi diamo spazio ai nostri prossimi appuntamenti. Questa sera abbiamo parlato di elezioni regionali, la vincita dell'onorevole Iole Santelli per il centro-destra, neo governatore della regione di Calabria, il risultato di Fratelli d'Italia con il neo consigliere regionale per Fratelli d'Italia, l'onorevole Filippo Pietropaolo. Una buona serata e spazio ai prossimi appuntamenti. Grazie a tutti, grazie a lei.